Abbiamo intenzione di incontrare l'assessore Squittieri già a settembre per cominciare a ipotizzare una calendarizzazione delle attività nel periodo d'agosto, non tutta l'estate ma nel periodo d'agosto, in modo che non risulti la città essere completamente chiusa, né può, come le dicevo, essere completamente aperta. Il nostro punto di vista è quello di cercare con un po' di equilibrio di mantenere un po' della città aperta, certo così chiusa non è assolutamente possibile.